Buonasera, iniziamo la conferenza Mangiante Sky Sport Ciao, buongiorno Partirei chiaramente dalla difficoltà di questa partita, il rapporto proprio alla forza del Betis che ha dimostrato nell'ultimo anno con i risultati appunto questa solidità, ecco, che tipo di difficoltà tecniche lei si aspetta da questa squadra e in più se può darci un aggiornamento sulle condizioni di Di Bala cioè uscito, sembrerebbe una piccola cosa però magari come sta Di Bala Bene Di Bala bene Di Bala gioca e la difficoltà è la difficoltà di giocare contro una squadra di qualità con identità chiara con grandi allenatori con grande esperienza con una filosofia molto propria che si vede nel modo come gioca la sua squadra una squadra che ha vinto e non è facile vincere una competizione in Spagna se non sei una delle tre squadre top giocatori con esperienza giocatori di nazionale anche tanti di loro partita difficile però partita difficile anche per loro 11 contro 11 più 60.000 e speriamo anche che 60.000 fanno fanno il suo perché la prossima settimana nel stadio Benitovilla Marine lì a Sevilla i suoi giocano tanto è un stadio fantastico nell'appoggio alla sua squadra io mi fido dei miei 11 mi fido dei miei che saranno in panchina e mi fido tanto dei altri 60.000 Padiglia F Mario Quante domande abbiamo in totale? Altre sette Salve in merito alla posizione di Zaleski se domani dovesse essere in campo e se lo vede anche dietro le punte piuttosto che un giocatore di fascia Zaleski può giocare un po' di tutto la formazione sua la conoscete voi chissà anche magari meglio di me però si è trasformato in questo in questo giocatore è bravo anche nazionale non è una nazionale di livello basso è una nazionale di livello alto gioca in questa in questa posizione lui si sente confortabile la squadra noi ci sentiamo confortabile con le sue caratteristiche e è un giocatore molto importante per noi si sta in panchina si sta in campo non cambia niente è un giocatore molto importante per noi grazie Pugliese Gazzetta dello Sport mancato sei buongiorno mister domani dovesse arrivare una vittoria per lei sarebbe la centosettesima in Europa sarebbe l'allenatore che avrebbe vinto più partite in assoluto nelle coppie europee ecco questa cosa la inorgoglisce è uno stimolo in più anche per domani le fa piacere non è un stimolo non è un stimolo in più orgoglioso di 106 e quando arriva la 107 sia domani sia prossima settimana non lo so però quando arriva sempre orgoglioso della mia carriera però ho detto sempre che questo tipo di cosa è cosa per passare tempo quando finisco la carriera quando finisco la carriera ho tanta cosa da da pensare da ricordare però in questo momento no in questo momento l'unica cosa che mi interessa è vincere la prossima sempre la prossima e la prossima è domani come dicevo prima sarà sicuramente difficile è una partita di livello alto molto alto però non è con questa cosa di vincere per vincere una partita di più che sarà Alex non è questo voglio vincere perché abbiamo bisogno abbiamo bisogno di punti abbiamo solo tre e non basta abbiamo bisogno di punti grazie grazie Dubaldo il Corriere dello Sport una partita da vincere si può giocare anche con due centravanti anche se hanno caratteristiche di terza cioè Abram e Belotti insieme è un'opportunità per questa partita visto che comunque mi sembra di capire magari se può dircelo che domani dovrebbe mancare Pellegrini che può giocare anche a centrocampo ma è un giocatore offensivo un trequartista soprattutto in quel ruolo lei l'ha utilizzato finora giocatori bravi possono giocare insieme non è non è mai un problema è per gli allenatori di trovare modo di fare gente giocare insieme perché giocatori bravi insieme non è mai un problema per dare un altro esempio non è che voglio andare via della tua domanda però per dare un esempio all'inizio per tanti di voi principalmente quei fenomeni che parlano nella radio e che non vengono mai qui sembrava quasi impossibile giocare insieme Pellegrini Pellegrini Zagnolo Tami Di Balla sembrava praticamente impossibile e purtroppo infortunio di qua infortunio di là poche volte lo abbiamo fatto però quando lo abbiamo fatto con tutti loro insieme la cosa ha funzionato molto bene Bellotti con Tami stiamo parlando di due giocatori bravi e giocare insieme è una questione di noi allenatori trovare un modo trovare il momento di farlo sviluppare a poco in poco però sicuramente per una squadra giocare contro una buona Roma perché bisogna una buona Roma con Tami e Bellotti insieme non è facile ogni partita è un'opportunità io non voglio dire che gioca domani qualche volta non è un problema per me di dire principalmente quando non ci sono dubbi sulla squadra avversaria in questo momento il Betis è una squadra con una ricchezza di soluzioni con tanti giocatori non sappiamo se faranno dei cambi in relazione all'ultima partita di campionato contro scelta veramente non lo so se gioca Iglesias o se gioca William Jose si gioca Canales o Fekir si gioca Canales e Fekir non lo so e come non lo so e come il mio collega sicuramente non mi dirà come lo farà io non non faccio commentare sulla nostra squadra dico solo quello che ho detto prima partita molto difficile 11 contro 11 più 60.000 Balzani leggo 4 Tornando a giocatori che abbiamo enunciato adesso Zaniolo in Europa ha una media più che doppia a livello realizzativo rispetto in Italia questa differenza secondo lei di natura tattica arbitrale magari perché poi magari in Italia gli viene concesso qualcosina e meno o è solamente un caso il fatto che Zaniolo segni molto di più in Europa rispetto che in Serie A è un giocatore che gli avversari si preoccupano questo non è non è un dubbio è un giocatore che non è egoista il suo modo di giocare qualche volta lo fa ovviamente prendere delle decisioni individuali di prendere palla di attaccare i difensori però non è un giocatore egoista non è un giocatore che pensa a se stesso non è un giocatore che risparmia energia per averla nella fase più più decisiva che è la finalizzazione è un giocatore che dà tutto alla sua squadra è un giocatore che difensivamente è tanto per nostra squadra è un giocatore che lavora tanto per nostra squadra e un giocatore che lavora tanto come lui lo fa è normale che non segni 20 gol una stagione però io ripeto non mi stanco di ripetere che è un giocatore veramente importante per noi e per me si segna di meno si segna di più per me non è una situazione drammatica quello che tu dici chi ha segnato di più è in Europa che in Serie A non so magari in Serie A fuori Betis fuori Leicester magari in Serie A le squadre hanno un livello superiore di quello che noi troviamo in Conference League in Europa League io direbbe che ovviamente Betis Leicester sono di un livello altissimo però abbiamo giocato anche con qualche squadra sicuramente in Serie A abbiamo partite molto più complicate Grazie Austini il tempo Salve buongiorno Ciao Quanto è importante per la crescita mentale della squadra aver fatto quattro punti tra Juventus e Inter su campi dove è molto difficile fare risultato storicamente per la Roma e quanto c'è in quel siamo più forti detto da Mancini ai compagni dopo l'1-1 della mentalità che lei vuole della squadra Guarda i quattro punti che abbiamo preso con Inter e con Juventus paragonando con l'anno scorso abbiamo perso quattro punti con Atalanta e con Udinese che l'anno scorso abbiamo preso l'anno scorso pareggio a Udine e vittoria all'Olimpico con con Atalanta quattro per quattro in questo caso di un modo pragmatico non abbiamo guadagnato niente non abbiamo perso niente però quello che tu dici dal punto di vista emozionale è importante è importante arrivare a questi stadi con queste squadre top e di fare il risultato è un feeling diverso abbiamo parlato di questo prima della partita prima della partita abbiamo parlato di questo perché per esempio la sconfitta contro Atalanta abbiamo analizzato abbiamo parlato di questo è una sconfitta che tu perde la partita però tu esci con una grande sensazione di superiorità abbiamo perso però siamo stati superiori non abbiamo avuto paura abbiamo giocato con fiducia molto molto bene e prima della partita con l'Inter io ho messo sul tavolo questa questione possiamo vincere possiamo perdere però uscire sempre di quello stadio con una sensazione come minimo di ugualtà mai con una sensazione di inferiorità l'anno scorso qualche volta siamo andati lì siete usciti con questa sensazione oggi no oggi andiamo là vinciamo perdiamo pareggiamo però dobbiamo uscire con una sensazione di superiorità i giocatori hanno preso questo con con le due mani hanno fatto un'ottima partita come tu dice sono punti che per noi portano qualcosa portano qualcosa in più a questo livello il mangio trascinatore uno con voce uno capace di dirlo nel momento giusto e contentissimo con quello che hanno fatto i ragazzi facciamo l'ultima per il mister sorti TRS buonasera ciao intanto le volevo chiedere come sta Pellegrini perché prima non c'è risposta e poi una curiosità è la seconda volta con l'Inter che ha visto una partita dal Pullman della squadra volevo chiedere con l'Inter perché non ha visto la partita sul Pullman quando sabato perché l'anno scorso anche era successo per noi con l'Inter no no quando è squalificato sono due volte che la avete sul Pullman le volevo chiedere un motivo non era Pullman non era Pullman no non era Pullman perché Pullman a San Siro vai sotto io non volevo stare sotto volevo stare in un altro posto era una van una bella van per dire la verità ma è per scaramanzia o per altri motivi e poi le chiedono si soffre di più in panchina mi piaceva sentire mi piaceva sentire un rumore dello stadio sai si capiva tanto si capiva quando era gol dell'Inter quando era gol della Roma quando era quasi gol si sentiva questa cosa anche senza senza guardare la partita bene e si soffre di più sul Vanno o in panchina? no è peggio ovviamente è peggio in panchina tu stai direttamente giocando lì è peggio è dura Pellegrini? Pellegrini vediamo qualche volta voi sapete più di me o sembra però ancora non dobbiamo allenare dobbiamo sentire anche lui lui sa che la partita è una partita fondamentale per noi io lo conosco bene lo so perfettamente che se lui dice no è no è perché non c'è nessuna possibilità se lui dice sono disponibile io mi fido che lui sia disponibile con lui non c'è perdita di tempo è tutto molto obiettivo la fiducia è altissima e aspetto un po' aspetto lui in questo caso più che aspettare il dipartamento medico aspetto lui la sua parola per me decide tutto grazie abbiamo finito top